Buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui, grazie a Leggendo Metropolitano che ci ospita ogni anno con le nostre autrici e le amiche del concorso Lingua Madre. Il concorso Lingua Madre, lo ricordo, è questo progetto diretto alle donne straniere residenti in Italia che quest'anno ha compiuto dieci anni e intorno al progetto si è creata una rete di amiche, amici, di associazioni, enti che ci seguono e dialogano con noi tutto l'anno e tra questi c'è anche Angelica Edna Calolivne che è qui con noi questa sera, sono molto felice perché lei è una personaggia molto importante per quello che fa e insomma lo capirete presto. Angelica è una persona speciale, una donna italiana che però vive in Israele, ebrea, che vive in Israele dall'età di vent'anni, e ideatrice del progetto Bereshit che coinvolge ragazzi di tutte le religioni musulmani, ebrei, cattolici, atei, poi ce ne parlerà tra poco, da cui poi è nata la fondazione omonima Bereshit della Shalom. Inoltre a questo segue tante altre iniziative e progetti tra cui parleremo poi anche di questo, è stata fondatrice con la palestinese Samar Saar del progetto Bread for Peace. Lei lo vedrete tra poco, è empatica, coinvolgente, un vulcano già candidata al premio Nobel per la pace, ed è scrittrice, giornalista, regista, coreografa, il suo ultimo libro uscirà a settembre, Memorie di un angelo custode, ci sono le cartoline in distribuzione se volete poi prenderla per ricordarvene, ed è un manuale per chi ha perso la speranza, recita il sottotitolo e parleremo anche di questo. Lei lavora appunto come educatrice, coreografa, regista in un luogo dove passare dalla guerra alla pace è molto facile, la quotidianità. Poi quando lei ha quattro figli maschi, quando il primo dei suoi figli anni fa dovette entrare nell'esercito per difendere questo paese che contrariamente appunto all'Italia è in costante stato di guerra, allora Angelica decide che deve fare qualche cosa. l'intento è semplice, quello di crescere i giovani appartenenti a tutte le culture, le religioni ed estrazioni sociali, di quel fazzoletto di terra in cui vive nell'alta Galilea e farne degli amici. stamattina al boetto lei diceva ecco dove abitiamo noi, abbiamo lì dove si vede questa collina la Siria, di là dove si vede l'altra collina il Libano, noi siamo qui in mezzo dove però ecco non era, non è una situazione come quella del boetto di pace ma diversa. ecco da qui nasce la sua attività e su questo inizierei a darle la parola. ha detto un sacco di cose, posso alzarmi? perché se no quelli dietro non vedono, allora poi mi rimetto seduta. come vuoi? io sto seduta scusate ma solo perché avete visto sono zoppa. no no va bene perché se no non vedo tutti. allora prima di tutto l'accento è romano perché sono nata a Roma, sono nata a Testaccio a Roma e quando avevo 12 anni sono entrata a far parte di un movimento giovanile, un movimento sionista, socialista e nello stesso tempo sono entrata a far parte del collegio rabbinico tutti avete sentito ultimamente della nostra grande perdita del rabbino Toaf che è stato uno dei rabbini più importanti dell'Italia che è il rabbino che ha portato il Papa Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma per cui potete immaginare il personaggio che ha unito veramente finalmente gli ebrei con i cristiani, con i cattolici ora immaginate questa situazione in cui sono tra religiosi e laici, Italia e Israele tra l'altro anche gli ebrei di Roma, sapete la comunità di Roma è la più antica comunità del mondo ebraica perché viene da Tito da quando Tito nel 70 dopo Cristo distrugge il secondo tempio di Gerusalemme per cui c'è sempre questa dicotomia tra un colore e un altro, tra il bianco e il nero e quando a 20 anni lascio l'Italia, vado a vivere in un kibbutz, questo era l'ideale finale di questo movimento giovanile che era un movimento come un movimento scoutistico, arrivo in kibbutz e c'è sempre questa voglia di unire le persone diverse perché conoscevo il bello sia di una parte che dell'altra perché quando cresci con delle persone, quando le conosci impari a vedere tutta la parte più bella di queste persone e ho scelto di fare teatro, ho fatto tra l'altro un dottorato su Pirandello e scoppia lì in seconda intifada. Ora, come ha raccontato Daniela, io ho quattro figli maschi e tutti i ragazzi in Israele debbono andare all'esercito, purtroppo, perché Israele è un puntino quasi invisibile se voi lo guardate sulla cartina geografica neanche la trovate e in tutto è grande un po' più o meno come la Sardegna ci sono 7 milioni di abitanti di cui un milione e mezzo tra arabi, circassi, drusi un vero laboratorio di etnie quando arriva il momento che i ragazzi hanno 18 anni, cioè appena ha finito il liceo debbono arruolarsi perché purtroppo questo puntino è circondato da paesi ostili ora siamo riusciti a fare la pace con la Giordania, siamo riusciti a fare la pace con l'Egitto anche se molto spesso succede ancora adesso per esempio un momento molto di tensione però per esempio come abbiamo spiegato, come spiegavo oggi a Daniela se voi guardate lì dove ci sono quelle montagne per noi è la Siria e dove vedete qua dietro a voi, un po' più indietro di questa torre perché ci stavo pensando prima mentre mi intervistavano, è il Libano cioè casa nostra è così proprio affacciata sul Libano e non possiamo entrare noi israeliani assolutamente né in Libano né in Siria sapete tutto quello che succede purtroppo adesso, delle cose terribili che succedono in Siria tra le persone che abitano in Siria e così quando un ragazzo arriva a 18 anni si deve arruolare all'esercito l'esercito israeliano dura tre anni, è un esercito Tzahal, avete sentito è Tzavah Agana l'Israel esercito di difesa di Israele i ragazzi a 18 anni quando è proprio il momento in cui possono andare all'università la ragazza andare la sera al pub e tutto il resto devono starsene per tre anni e mezzo all'esercito se poi sono ufficiali quattro anni e mezzo per darvi un esempio, i nostri figli hanno cominciato a studiare all'università a 25 anni perché sono stati anche ufficiali e gli ufficiali li scelgono tra coloro che hanno uno spessore umano più alto quando persone che hanno una certa responsabilità che hanno frequentato movimenti giovanili insomma quando Galli, il nostro primo figlio, si arruola scoppia la seconda intifada e cominciano già i primi veramente momenti molto molto duri se vi ricordate entravano terroristi che entravano come stiamo noi adesso qua così o come sentite adesso anche quello che succede con l'Isis questo era 15 anni fa entravano nei centri commerciali, sugli autobus si facevano esplodere e nel giro di un anno ci sono state veramente centinaia di vittime in Israele e ci hanno invitato nell'estate del 2001 mio marito che sta lì dietro e me a portare 50 ragazzini colpiti dal terrorismo in Italia a Caletta di Castiglioncello ora in Israele adorano l'Italia l'Italia, forse uno che sta in Italia non se ne rende conto ma l'Italia è uno dei paesi più amati al mondo dove vado vado a fare una conferenza quando dico che sono italiana bella l'Italia, tutti innamorati e contenti insomma immaginate che noi diciamo che portiamo 50 ragazzini colpiti dal terrorismo in Toscana una grandissima emozione e mentre eravamo lì vediamo questi ragazzi che aveva perso il padre, che aveva perso la mamma che aveva un fratello in coma e proprio qualche giorno prima di partire una ragazza, Moria, una ragazza meravigliosa mi dice guarda Angelica non posso venire perché Moria? no perché io ero in un attentato ho tutto il corpo pieno di schegge e non posso venire perché devo fare tutto il tempo fisioterapia Moria, lo troviamo un fisioterapista in Toscana amica, non è che andiamo insomma riusciamo a trovare questo fisioterapista per dieci giorni passiamo queste giornate meravigliose con questi ragazzi che abbiamo chiamato questo progetto disegnare un sorriso sul loro volto l'ultimo giorno questo fisioterapista carinissimo ogni giorno veniva e gli faceva fare a Moria gli esercizi emozionatissimo e l'ultimo giorno mi dice senti Angelica posso chiederle che cosa veramente è successo adesso queste domande non le fai mai perché non sai mai ti dico Moria puoi raccontare a Giorgio che cosa ti è successo certo io eravo andati sabato sera con i quattro miei amici a mangiare una pizza eravamo tutti seduti lì a mangiare la pizza all'improvviso si è sentito un'esplosione, un buato terribile io non mi ricordo più niente mi ricordo solo che mi sono svegliata dentro all'ambulanza e dicevo dov'è la mia mano, dov'è la mia mano, dov'è il mio braccio perché non sentivo più il braccio infatti il giorno dopo su tutti i giornali c'era scritto dov'è il mio braccio se avete questi articoli da prima pagina e fa solamente dopo quattro mesi che io ero, lei era stata in cura le hanno detto che tutti e tre i ragazzi di 14 anni come lei che erano con lei a mangiare la pizza erano tutte e tre morti era rimasta solamente lei questo Giorgio vi dico sta là davanti così dice senti le puoi chiedere se può perdonare questa persona che si è fatto esplodere che ha fatto quello che ha fatto Moria gli dice guarda io danzavo e non posso più danzare suonavo il flauto traverso e non posso più suonarlo perché il mio braccio destro lavora solo al 70% se io odiassi non potrei più vivere per niente per cui io non odio nessuno Giorgio si alza abbiamo finito la seduta se ne va io emozionata pure io perché avevo fatto la traduzione di quello che aveva detto Moria ogni pubblico dico oddio non l'ho pagato per tutti questi dieci giorni era venuto ogni giorno per un'ora corri, corri appresso Giorgio, Giorgio ti devo pagare mi fa io quello che dovevo ricevere l'ho già ricevuto grazie non voglio niente mi ha dato il dono il regalo la lezione più grande che avrei mai ricevuto nella mia vita noi siamo tornati in Israele e abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa adesso non siamo così ingenui da dire facciamo tic tac fatta smemorina e domani mattina facciamo la pace però una cosa piccola la possiamo fare e così io avevo un sogno nel cassetto come vi ho detto in Galilea dove abito io al kibbutz che tra l'altro è un kibbutz ancora comunitario noi abbiamo tutti in comune abbiamo una grandissima sala da pranzo dove mangiamo insieme tutte le grandi feste i lutti le gioie le riguardiamo insieme tutti i nostri salari vanno in una stessa cassa per cui anche il direttore della fabbrica che guadagna 50.000 shekel al mese riceve ossettamente per sé e per i suoi figli che è quello che riceve il giardiniere che magari ne prende 5.000 shekel al mese ok? cioè ognuno di noi è qui per dare il massimo di se stesso noi siamo ognuno di noi è un grande tesoro ognuno dà il massimo di se stesso con quello che sa fare comunque nel nostro kibbutz che vi ho detto che sta proprio al confine con il Libano 5 km da una parte un villaggio druso 5 km dall'altra un villaggio musulmano 5 km dall'altra un villaggio cristiano che è l'unico villaggio che è rimasto cristiano di tutto il Medio Oriente perché di solito ci sono insieme musulmani e cristiani e adesso i musulmani sono la maggior parte in ogni villaggio e poi villaggi religiosi, laici, moshav, kibbutz, cittadina insomma io avevo questo sonno nel cassetto proprio in questo momento in cui avevamo tre attentati al giorno di mettere insieme un po' di ragazzi io ho pensato metto insieme una ventina di ragazzi di 15, 16, 18 anni e li faccio danzare li faccio fare qualcosa sono passati 15 anni e questo è diventato veramente una cosa enorme sono passati centinaia di ragazzi che oggi sono sposati che si continuano ad incontrare anche nei momenti più difficili abbiamo avuto nel frattempo tre guerre la guerra del Libano abbiamo avuto la guerra del Libano Zucchaitan tutte le ultime guerre e voi dovete vedere che cose scrivono questi ragazzi ogni volta che c'è una guerra i ragazzi arabi scrivono agli ebrei e gli ebrei scrivono agli arabi loro rimangono amici perché quando due persone si incontrano si raccontano chi sono riescono ad abbattere i veri muri che si creano non c'è più paura quando la paura scende e ci si riesce a vedere in volto ma proprio a potersi raccontare chi siamo il bello che siamo e questo è il mio compito io metto insieme questi ragazzi e attraverso la danza attraverso la musica attraverso dei metodi che ho inventato che magari se volete domani mattina potete venire ai giardini pubblici lo faccio con una ventina di ragazzi nel giro di poco tempo questi ragazzi diventano non solo amici di più di più di amici e questo è iniziato soprattutto per il teatro poi a un certo punto è successa una cosa veramente terribile vi sto parlando del 2003 per adesso facevamo solo laboratorio di teatro nel 2003 il padre di una delle ragazze decide di portare la famiglia a Mombasa in Africa a 3000 km da Israele vanno a fare questo viaggio perché il figlio aveva fatto la maggiorità religiosa il bar mitzvah arrivano lì per distogliersi un po' perché non vi rendete conto cioè tutto il giorno si parlava solo di questo un attentato qua un attentato là un attentato qua non si viveva più questi arrivano a Mombasa 3000 km da Israele entrano in questo albergo meraviglioso in mezzo alla giungla entra uno e si fa assaltare si fa esplodere questa ragazza Mor una ragazza meravigliosa mi dispiace perché ho portato un video ve lo volevo far vedere ma non si può vedere vedete come la ragazza racconta e lei dice non si può aspetta io vedo quello che è successo dopo che è tornata torna e mi telefona e mi dice Angelica io al teatro non ci vengo più perché Mor io odio tutti gli arabi non li posso più vedere li odio tutti non voglio più sentire parlare di arabi amore mio però Sharif Amal tutti i ragazzi arabi che sono da noi loro non si farebbero mai saltare lo capisci da solo che non si farebbero mai esplodere non voglio sentire non li voglio vedere ok vieni per l'ultima volta e saluta tutti viene e preparo un piccolo una piccola un piccolo esercizio diciamo che loro sono chiusi dentro una scatola vabbè poi non fa niente mi sto a dire tutto l'esercizio però la sensazione di essere chiuso imprigionato in un paese perché eravamo imprigionati noi lì dentro a Israele perché non potevamo andare da nessuna parte l'unica cosa era andare al mare e uscire per il mare perché in ogni posto che andavi c'era questi attentati e alla fine dico ok chi è che vuole salire sul palcoscenico e fare un monologo di come si sente il primo che sale è Sharif un ragazzo arabo sale sul palcoscenico e dice io vivo qui in Israele sono un arabo cristiano israeliano e io mi sento imprigionato qua come tutti voi perché siamo tutti adesso in pericolo per gli attentati siamo tutti in pericolo se saliamo su un autobus siamo tutti in pericolo se ci andiamo a mangiare una pizza tutti i ragazzi salgono sul palcoscenico uno a uno fanno il loro monologo all'improvviso Mor che era rimasta lì a un angolo dice lo faccio anch'io il monologo ok Mor sali sul palcoscenico sali sul palcoscenico e dice ma che ne sapete voi di che cosa è un attentato entriamo nell'albergo più bello del mondo da mille e una notte entriamo all'improvviso io sono con i miei fratelli nella stanza un boato terribile all'improvviso mi affaccio tutti i vetri della finestra e saltano mi affaccio alla finestra la piscina tutta rossa di sangue io sta per dire odio tutti gli arabi Sharif si alza Mor ti posso abbracciare e vi potete immaginare cose che succedono solo tra gli adolescenti si alzano tutti e venti si abbracciano tutti quanti per dire siamo qua siamo il futuro siamo un'altra generazione vogliamo qualcos'altro vogliamo creare insieme qualcos'altro e da lì nasce uno spettacolo col quale siamo venuti già 38 volte in Italia abbiamo girato per tutta l'Italia dove con tutte maschere bianche i ragazzi raccontano quanto sia difficile creare un dialogo e oggi tutti noi sappiamo quanto è difficile creare un dialogo perché ormai il mondo è fatto di differenze ormai ogni giorno ci sono persone che fuggono dalla violenza di chi li vorrebbe annullare per venire da un posto all'altro e noi che siamo forti noi che abbiamo tutto ringraziando Dio noi dobbiamo aiutare quelli che non hanno nulla quelli che hanno bisogno di noi e così questi ragazzi decidono attraverso questo spettacolo di raccontare quanto sia possibile togliersi le maschere adesso faccio una corsa questo spettacolo passiamo un po' di anni mi chiamano e mi dicono dal Parlamento Europeo e mi dicono abbiamo saputo che sei un expert trainer per unire ragazzi differenti abbiamo un problema gravissimo perché abbiamo 40 ragazzi israeliani di Eilat e 40 di Yacaba che hanno partecipato a un progetto del Parlamento Europeo 500.000 euro stiamo per finire il progetto non si vogliono più incontrare perché nel frattempo è scoppiata la guerra di Gaza e i giordani non vogliono più incontrare gli israeliani ok adesso per darvi un'idea io abito fate conto nel nord della Galilea fate conto che io abito a Milano e questa cosa qui Eilat è molto più giù diciamo in Sicilia va bene Tociccia io abito a Sassa come faccio ad arrivare Eilat dimmi quello che ti pare gli faccio l'aereo quello che vuoi insomma per sei mesi sono andata da Sassa a Eilat due volte a settimana abbiamo creato lo spettacolo questo delle maschere con questi 80 ragazzi e siamo arrivati dal Papa in Sala Nervi da Benedetto XVI e abbiamo fatto siamo stati ricevuti con tutti 80 ragazzi giordani e israeliani nel frattempo questa cosa è cresciuta allora ho detto va bene se funziona proviamo ancora e adesso per il quinto anno stiamo facendo un progetto con 150 ragazzi 50 israeliani 50 di Ramallah Betlemme cioè palestinesi 50 di Amman cioè giordani e questi ragazzi si incontrano prima abbiamo fatto un lavoro perché devi lavorare con gli insegnanti abbiamo lavorato con gli insegnanti poi piano piano tutto il primo anno abbiamo lavorato con gli insegnanti poi abbiamo fatto tre incontri all'anno il prossimo ce l'ho la settimana prossima e ogni volta si incontrano questi ragazzi facciamo con loro queste attività con la musica e si raccontano chiaramente lì si parla in inglese e si raccontano ultima cosa che vi racconto prima che vanno iade volevo farti una domanda il sole va in faccia ai belli cerco di coprirti il sole no beh avete sentito come no uno spettacolo e un'attività di questo tipo che possa diventare strumento di pace vi dicevo che Angelica ha scritto diversi libri l'ultimo è questo in uscita Memorie di un angelo custode e in questo volume chi parla è appunto il suo angelo custode che lei fa parlare in romanesco è molto divertente anche anche se poi racconto un attimino questa cosa qua allora dato che tutte le donne che sono qua capiscono benissimo cioè pure gli uomini però noi lo capiamo meglio siamo sempre di corsa perché lavori cucini stili lavi cose insomma un giorno mentre è successa una cosa è che devo fare una conferenza a Torino e dopo tre giorni la dovevo fare a Catania sono arrivata a Torino e la mia valigia mi hanno detto che era arrivata a Catania per cui sono stata tre giorni con lo stesso vestito era con noi la conferenza ero con loro sembravo proprio maga magò che ne so ero bruttissima insomma sempre il sito uguale così l'ultimo giorno mi dicono adesso le mandiamo la valigia dico no non fate niente perché sto per venire a Catania per gente ah ormai non si sa dove sta questa valigia insomma io lì all'aeroporto di Torino a Caselle avanti e dietro avanti e dietro correvo correvo su per le scale scale mobili per fuori con i telefoni per fuori all'impresa ho sentito una voce che mi diceva oh mo fermete mo basta non ce la faccio più manco io allora ho capito che il mio angelo custode parlava in romanesco ecco allora ho cominciato a scrivere il libro su noi donne che siamo talmente occupate a fare 150.000 cose e meno male che abbiamo pure un sacco di uomini bravi vicino a noi vai continuo se lo merita come vedete è empatica è un vulcano è un vulcano pensate che oltre 50 milioni di contatti di contatti sul web l'ultima trasmissione online che ha fatto ha mandato in tilt la piattaforma della televisione che la stava intervistando insomma è veramente Angelica è speciale poi lo state vedendo insomma nel libro ci sono diversi vabbè io l'ho letto in anteprima diversi brani volevo leggerne un pezzetto di uno di un brano dove tu scrivi penso a tutti coloro che celebrano la differenza di religione di classe di professione e dividono l'umanità in caste in gruppi alimentano l'aggressività e l'ostilità l'umanità è un tripudio di colori e ognuno di essi ha sapori profumi e suoni diversi ognuno ha il diritto e il dovere di mantenere accesa la fiamma delle proprie tradizioni ma tutti senza differenze religiosi laici di destra di sinistra uomini o donne sono voci distinte di un grande coro dove ognuno deve essere garante dell'altro cosciente dell'immenso valore per cui è giunto in questo mondo ecco e i ragazzi e le ragazze che insieme si ritrovano sul palco che continuano insomma a venire perché poi sono sempre diversi insomma in tutti questi anni come insomma un po' l'hai già spiegato ma poi crescendo si mantiene perché tu hai detto solo gli adolescenti possono reagire in questo modo allora gli adolescenti sono quelli che lo capiscono meglio una delle cose che diciamo spesso è cercare di rimanere quanto più adolescenti ma nello spirito nell'anima perché quante persone vedi che si inizia a fare qualcosa ah no no io queste cose già non le faccio più perché danzare non si fa più perché ridere perché fare qualcosa cioè al momento che si che si abbandona questo tipo di cose si diventa veramente vecchi allora si diventa è lì il momento in cui perdi tutta la freschezza ora una delle cose belle che succedono invece ai ragazzi è che si sentono tutti ambasciatori io penso che dare la possibilità a un ragazzo a un giovane di essere ambasciatore di qualcosa di positivo è il regalo il dono più bello che si possa fare è qualcosa che se lo porta con sé per sempre è qualcosa che lo rende che lo rende anche forte quando c'è il cinismo intorno a lui quando sapete quante volte non si può essere positivo certo non lo so adesso sicuramente succede anche qua perché succede dappertutto e questi ragazzi si sentono la forza di essere quelli che sono di non andare col branco di non andare con tutti gli altri perché devono essere tutti vestiti uguali perché devono essere tutti in questo no posso essere chi sono anche se sono diverso anche se mi piace di ballare anche se suono anche se se penso diverso degli altri e se penso in positivo e non è sempre facile perché all'inizio molti dei ragazzi che venivano a questo teatro dicono ah tu vai con i ragazzi arabi allora oppure il contrario ah te ne vai con gli ebrei e loro sono riusciti a vincere questo scoglio e si sentono proprio si sentono veramente ambasciatori di pace e un ragazzo di 14 15 anni che si sente ambasciatori di qualcosa di nuovo vi dico è per tutta la vita per tutta la vita e oggi quasi tutti i ragazzi che sono stati da noi a teatro hanno scelto un lavoro appunto o sociologia o insegnamento cioè anche cose che oggi sapete quando uno va all'università fa il conto di quanto guadagnerà poi e loro scelgono quello che li renderà felici e io penso che anche questa sia una cosa molto molto importante molto importante un altro progetto di cui volevo che vi parlasse Angelica è quello che lei svolge insieme a una sua amica palestinese Samar Saar che è il progetto Bread for Peace parte da una cosa molto semplice il pane fare il pane e questo pane lo vanno a fare attraverso i villaggi ed è un pane anche qui che unisce allora Samar è un personaggio veramente straordinario Samar Saar è palestinese cristiana vive a El Azari in arabo in italiano si chiama Betania è la città di Lazzaro come bene sapete Samar inizia più di 25 anni fa insieme ai suoi genitori crea un orfanotrofio lei è cristiana e raccoglie bambini musulmani molto spesso quando i musulmani possono sposarsi con più donne e molto lì perlomeno non so qui cosa fanno però molto spesso i bambini vengono abbandonati e lei oltre a questo crea dopo un po' un'altra casa per ragazze e donne abusate che si chiama Lazarus Girls fa un lavoro straordinario riesce a portare a ricevere da Israele una macchina per fare il pane e un giorno mi mandano ad intervistarla proprio nel periodo pure quello degli attentati io gli dico all'editore oh io non posso andare a intervistarla mi rapiscono ah no no provaci provaci le telefono Samar puoi venire a Gerusalemme che io voglio intervistarti non la conoscevo ancora parlavamo in inglese no 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 è tutto in mano di Dio vieni vedrai che andrà tutto bene io chiamo il mio marito che è veramente il mio angelo custode entriamo a Gerusalemme est guardate è come se l'avessi sempre conosciuta sapete quelle persone che l'avete per la prima volta e ti sembra che sia tua sorella insomma cominciamo a fare un po' di sogni insieme e cominciamo ad invitarci in Italia a fare conferenze lei parla perfettamente l'italiano e è una suora una suora laica cioè non si è mai sposata è votata a Dio ma lei si occupa dei suoi ragazzi insomma arriviamo a Parma e lei ogni volta proprio in Emilia Romagna ogni posto dove eravamo lei diceva il mio sogno è portare un pullman di donne israeliane a Betania e fare il pane della pace io mi giravo dall'altra parte perché come fai a portare le donne a Betania proprio in piena zona palestinese arriviamo a Parma il sindaco mi dice a me se tu porti un pullman di 50 donne israeliane là lo pago io il pullman dico va bene come facciamo a fare questa cosa insomma riusciamo ad coinvolgere fino al Parlamento Europeo allora il presidente del Parlamento Europeo era Mario Mauro che avevamo conosciuto qui in Sardegna una volta insieme a Samara avevamo ricevuto ad Alghero un premio per tutto quello che facevamo e conosciamo Mario Mauro e diciamo senti Mario se tu vieni è un po' più sicuro se c'è il presidente del Parlamento Europeo non ci succede niente riusciamo a portare un pullman di 50 donne più tutti i ragazzi del teatro facciamo lo spettacolo lì vi dico è stata una cosa una cosa veramente emozionante poi sapete di quelle cose che ti succedono sapete che da noi ebrei si legge ogni settimana la Parashah la Parashah è un pezzetto della Bibbia il sabato prima di quest'evento a me mi prende mi prende un attimo la paura di come io sono scema cioè porto 50 persone là ma se mai sia succede qualcosa tra l'altro mi hanno detto adesso che ci sono mi hanno scritto il bigliettino che ci sono di dietro alcuni dei libri che ho scritto e su Giù le maschere c'è proprio tutta questa storia qua che vi racconto di Samar anche e a un certo punto arriviamo a Gerusalemme e ci doveva essere la maggiorità religiosa di un ragazzo nostro e doveva leggere la Parashah cioè il capitolo di quella settimana io sono nella sinagoga tra l'altro la sinagoga italiana di Gerusalemme è una cosa meravigliosa di Castelfranco Veneto hanno portato tutta questa sinagoga in Israele io sto là e mi faccio le mie chiacchierate con il Signore Dio che mi succedono tutti i giorni e faccio ma io dico Signore Dio tu che dici non sarà pericoloso che io porto adesso tutto questo pullman con i ragazzi mamma mia insomma sto lì all'improvviso sento il ragazzo comincia a cantare il pezzo del capitolo della Bibbia e il capitolo di cui la settimana diceva e voi cuocerete il vostro pane e quando cuocerete il vostro pane e raccoglierete il vostro grano cuocerete il vostro pane e trasformerete le vostre falci in le vostre spade in buon e ridaratro ho capito vado e me ne succedono di questi fatti vi dico uno dopo l'altro ve ne racconto solo un altro perché è troppo bello dico solo questo che tra due settimane Angelica e Samar Sacari riceveranno un premio a Catania quindi torneranno in Italia il premio Antonietta Labisi che è dato per chi si impegna e lavora nel sociale tra le altre ecco mi dico per solo raccontare quest'altro fatto perché qualcuno prima mi ha chiesto ma non è difficile cioè non avete mai avuto persone che hanno contrastato questa cosa di fare il teatro ebrei e arabi dopo due anni i primi due anni che avevamo fatto il teatro vi dico facevo tutto da sola insieme a mio marito a cercare i ragazzi a portarli tutto volontariamente ma avevano solo dato una sala nel consiglio regionale della Galilea insomma e mi davano i pulmini due pulmini per portare i ragazzi perché sono tutti sparsi sono tutti piccoli villaggi diciamo insomma torniamo dall'Italia io porto tipo dieci giornali che avevano parlato di questo nostro spettacolo ma veramente dall'espresso a insomma tanti giornali arrivo lì tutta contenta orgogliosissima gli faccio vedere i giornali gli viene il responsabile e gli fa ah bello bello ti volevamo dire che chiudiamo il teatro io pensavo che scherzava dico come chiudete il teatro io pensavo che mi chiamava perché mi voleva dire adesso ti paghiamo pure qualche cosa invece no chiudiamo il teatro come chiudiamo non abbiamo più i soldi per i pulmini beh ma c'è un peccato ormai abbiamo tutti i ragazzi vengono tanto volentieri ci sono 20 ragazzi niente non c'è più niente da fare e capisco che non vogliono che sia un teatro misto di ragazzi ebrei e arabi perché erano veramente momenti difficili esco dal consiglio regionale e sto andando al kibbutz vi dico non riuscivo a guidare per quante lacrime proprio mi stavo facendo un'era di pianto e piangevo e fecevo io dico signore Dio ma io non capisco mi fai fare le cose adesso io che gli dico ai ragazzi adesso come li deludo in questo modo e piango piango proprio arrivo a casa io non c'ho quasi mai un momento in cui mi metto seduta così senza fare niente proprio non c'è forza di fare niente mi metto seduta sul tavolo e sto così all'improvviso una telefonata è pronto è la dottoressa Kalolivne dico sì chi è e vedo che è un telefono dall'Italia faccio chi è e lei è amica di Samar Sakkar vero dico sì chi è e lei ha un teatro di ragazzi ebrei e arabi dico ce l'avevo fino a 20 minuti fa perché che cosa è successo dico me lo chiudono è un problema economico chi è mi dica è un problema economico sì è un problema economico di che si tratta ma lei chi è la sto chiamando dal Vaticano è un problema economico perché mi servono 25.000 shekel perché sono i soldi che per i pulmini per fare i viaggi per portare i ragazzi al teatro una volta a settimana fa ah c'è 5.000 euro dico sì allora io le telefono per dirle che lei e la sua amica Samar riceverete 10.000 euro che vi dividerete voi due perché la prossima il prossimo maggio era la sera prima di Natale del 2003 il prossimo maggio del 2004 riceverete questo premio al Sacro Convento di Assisi io dico è uno scherzo dice no è vero lei è un angelo no sono un prete mi fa così io vi dico questa cosa qua l'ho raccontata poi il 14 maggio del 2004 al Sacro Convento e queste sono le cose che succedono una dopo l'altra che ho deciso bisogna che le scrivo perché a volte vedi che ci sono delle forze più grandi veramente delle forze più grandi che vogliono che continui anche se certe volte proprio non ce la fai più non ce la fai più perché perché a volte non è faticoso perché io non mi affatico per queste cose qua mi piace però rimango male quando qualcuno ti dice ah sei un'illusa tanto la pace non ci sarà mai o rimango male sinceramente rimango male quando come ieri che è arrivato qui un premio Nobel israeliano un premio Nobel israeliano che insegna all'Università del Technion di Haifa dove sono usciti perlomeno 11 premi Nobel che hanno studiato medicina scienza hanno questo premio Nobel di ieri Chachnover è un nome difficile ha studiato il DNA e lui è riuscito a scoprire che ognuno di noi reagisce in modo diverso alle medicine vuol dire che abbiamo un'altra possibilità di salvarci un'altra possibilità di salvare altre persone e ieri hanno fatto una manifestazione qui perché lui era israeliano cioè a me queste cose mi fanno rimanere male mi fanno rimanere brividi perché io lo so io lo so che cosa succede veramente in Israele io lo so quante quante centinaia di 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 associazioni come quella che dirigo io ci sono in Israele quelli che uniscono attraverso i giochi quelli che uniscono attraverso la musica quelli che uniscono cioè io so quanti programmi curriculari ci sono nel ministero dell'istruzione israeliana il programma curriculare per i drusi il programma curriculare per gli ebrei religiosi il programma curriculare per gli ebrei laici il programma curriculare per i musulmani anche perché se no sarebbe ingiusto che facciamo studiare ai musulmani la Bibbia e invece loro vogliono studiare il Corano tutta questa è Israele cioè noi in Israele siamo attenti alle alle moschee siamo attenti alle alle chiese e queste cose io le so perché ci vivo là per cui anche questo mi dispiace quando vedo quando vedo estremismo dall'altra parte perché io non sono estremista sono pronta a a capire tutto e a e a scusare tutto ultima cosa mio figlio ora è a Berlino sta lui è coreografo e fa danza e qualche giorno fa qualcuno mi ha detto ma come fa tuo figlio a stare a Berlino dopo tutto quello che vanno fatto i nazisti sono passati 70 anni non si può continuare ad odiare e sono passate tre generazioni e noi abbiamo il dovere il dovere di andare avanti perché anche noi brezzi ci fossimo fermati ancora da Tito da che ne so io da Torquemada da tutto quello che ci hanno fatto saremo già morti da tempo si va avanti e si collabora con tutti tutti quelli che vogliono collaborare questo è quello tutto questo ancora di più lo potete trovare nei libri di Angelica poi anzi lei volentieri firmerà le copie per chi vorrà se qualcuno in sala ha delle domande da fare vedevo che mentre lei parlava parlavate fra di voi facevate insomma anche voci di dissenso perché no chi ha piacere di chiedere qualche cosa ad Angelica siamo qui volentieri vi invito vi invito a a parlare con lei lo vedete lei appunto vediamo pure il microfono se volete sì sì c'è anche un microfono c'è una delle ragazze che ve lo può portare nessuno nessuno che ha io vedevo una signora lì prima che non era molto d'accordo su tutto non vuole non vuole intervenire c'è il microfono eccolo io posso raccontare una mia esperienza io ho sentito che sei ok non so ci diamo del tu ci diamo del lei una persona splendida veramente però ci sono anche altre cose insomma si allontana se non fischia mi allontano il microfono da lì va bene a me è successo questo nel 2003 mentre stavamo preparando l'Europa Social Forum con i movimenti che sono usciti da Genova dopo Genova è successo questo ci siamo trovati oh dio poveraccia mamma mia dove? in un altro posto? va bene arrivederci ragazzi no 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 senta signora venga il mio kippuz venga il mio kippuz mi racconta là no velocemente è successo questo eravamo a Roma nella zona del ghetto ebraico in un cinematografo occupato al rialto occupato e stavamo organizzando da tutta Italia questo convegno incontro che ci sarebbe stato a Firenze un incontro di tutti i movimenti europei ad un certo punto qualcuno si è ha visto uno degli esponenti nazionali o internazionali del movimento e l'ha riconosciuto come un amico dei palestinesi in brevissimo tempo siamo stati dentro al cinema circondati e presi a sassate dagli ebrei che abitano nel ghetto ebraico di Roma e che evidentemente consideravano quello un territorio nel quale gli amici dei palestinesi non dovevano essere presenti perché ci hanno cacciato a sassate e anche due persone sono finite all'ospedale per cui è molto difficile questo discorso perché sicuramente ci sono persone splendide che lavorano da tutti e due i lati come nella storia che ci avete raccontato però è anche una situazione molto molto difficile molto difficile è proprio la mamma del terrorismo di tutte le guerre tutto questo parte da una situazione che se vogliamo è contro le risoluzioni dell'ONU cioè c'è una situazione in atto che che non è bella dal punto di vista del governo di Israele almeno questa è la mia opinione ecco grazie signora allora io non le so rispondere a questa domanda non so se era una domanda o una storia cioè di solito quando io sento qualcosa del genere vado a chiedere anche dall'altra parte perché molto spesso mi dicono è successo questo poi sento che magari è tutto un'altra cosa però purtroppo purtroppo siamo in guerra adesso voi questa guerra la cominciate a sentire solo adesso perché con l'Isis è tutto quello che si sente noi siamo in guerra ci siamo là da un bel po' di tempo io non lo so questa cosa delle sassate guardi ma comunque che esistono gli estremismi da entrambi le parti questo non lo nega nessuno io abborrisco tutte queste cose di violenza cioè se io fossi stata là sono sicura che avrei detto qualcosa ma non so neanche che cosa è successo per cui non so proprio cosa dirle su questo fatto però una cosa io le voglio dire che allora Israele da tanto tempo è una diga è una diga che blocca il che blocca il oddio quando uno è mi manca una parola il fanatismo il fanatismo e l'estremismo non stiamo parlando non stiamo signora stia attenta a quello che difende perché se lei difende l'Isis io sto parlando dell'Isis allora non so che cosa sta dicendo non so che cosa sta dicendo ma non strilli non capito ma no ma signora se no signora se ha qualcosa venga venga a dirlo al microfono d'accordo signora se vuole venga qui lo dica io sto raccontando quello che faccio anzi veramente vi dico io sto raccontando quello che faccio per evitare cose terribili che conosco e vengono bene vi sto raccontando un grande successo perché le persone non vogliono né la violenza e né vogliono e né vogliono soccombere a chi pretende che pensi quello che loro pensano che loro pensano questo è quello che vi sto dicendo certo non è che io da me se qualcuno è violento lo accetto no non l'accetto vi sto dicendo di signora scusi ma invece di andarsene via a urlare perché non viene qui e ci dice la sua posizione ma no ma siamo qua a discutere è accusato di essere dell'ISIS soltanto perché ho espresso no no ma non l'ha accusata di questa intellettuale no no con calma allora io ho le mie opinioni ma le dica signora non strilli da una parte l'israele è uno stato pacifico e libero che è un argine al fanatismo quando il fanatismo sta proprio in israele voi non avete neanche una costituzione vi siete dichiarati uno stato ebraico quindi il fanatismo sta dalla vostra parte prima di tutto signora non so di cosa sta parlando perché israele ha una costituzione nella quale c'è scritto no no signora questa è ignoranza mi scusi la costituzione di israele firmata da Ben Gurion dice che tutti i cittadini di israele senza differenza di etnia di religione la porta hanno gli stessi diritti e così è signora apra google e scriva costituzione dello stato israele è bello venire qui e mandare delle frasi così che nessuno sa che non è vero signora di questo parlo io sto parlando esattamente di questo che io racconto per un'ora non puoi venire e poi scappare via viene una noi l'abbiamo ascoltata e io vengo e dico sì tutti gli italiani fanno questo oh ma insomma ma uno prima di dire una cosa che ci pensi perché a me queste cose mi feriscono esattamente come se uno mi avesse tirato una sassata scusate ve lo dico adesso vi voglio dire un'altra cosa insieme a Samar noi raccontiamo un piccolo racconto perché ti so pure qua ci può essere qualcuno che dice è bella avete fatto i balletti e le canzoncine no vi dico questa cosa che racconta sempre Samar passa un uomo e vede un uccellino con le ali aperte per terra e gli dice che stai facendo là e l'uccellino dice sto cercando di salvare il mondo perché Dio è molto molto attirato con gli uomini allora lui gli dice e tu un uccellino così piccolo stai cercando di salvare il mondo e l'uccellino dice io sto facendo del mio meglio ecco signora io sto facendo del mio meglio signori io sto facendo del mio meglio e vi invito anche a voi a fare del vostro meglio ci sono altre domande Israele è l'unico stato democratico di tutto il Medio Oriente c'è una costituzione veramente da invidiabile però se le persone vengono fomentate gli vengono raccontate le cose e non controllano purtroppo mi dispiace che devo dire ci sono come i muri per separare i palestinieri tutti che liberano i palestinieri allora senti io non ti voglio augurare niente veramente non sono cattiva però io non ti vorrei augurare che tutti i giorni viene qualcuno qua e si fa saltare in qualche altro posto allora noi questo muro lo abbiamo l'ho capito io questo muro noi questo muro l'abbiamo costruito per bloccare quelli che entravano da noi si facevano esplodere per noi non è un muro il vero muro il vero muro è quello che creano le persone che mandano in giro delle chiacchiere false su Israele allora noi abbiamo dovuto creare una barriera di difesa perché tutti i santi giorni come vi ho raccontato entravano persone in luoghi pubblici come questo con una bella cintura dentro i ristoranti in tutti i posti come questo nel bel mezzo quando c'erano anzi più persone possibili si facevano saltare noi nel 37 appena detto allora allora è lo stesso discorso che facciamo abbiamo capito siete venuti qui per fare un po' di macello però scusate però scusate non siamo qua propaganda questa è propaganda non quella che le raccolto io no signori si documenti io lì ci vivo io ci vivo ma lo prenda il microfono scusate date un microfono al signore date un microfono al signore esattamente una settimana fa è stato fatto un accordo di cui ovviamente non si deve parlare ma si sa tra Israele compreso Netanyahu e l'Arabia Saudita per fare fronte all'Iran caso strano l'Arabia Saudita sovvenzione all'Isis allora mi dite Israele che cosa fa lì in quell'accordo allora tanto per cominciare io sono qui venuta a parlare di educazione sono venuta a parlare di tutte le cose positive che facciamo io ho detto maleducato sono venuta a parlare dell'educazione io lavoro nell'educazione signore non l'avrei mai offesa sono venuta a parlare dell'educazione perché io lavoro nell'educazione educo i ragazzi a comportarsi in altro modo signore ma no non sta parlando di lei va bene c'era una signora che voleva parlare se le date il microfono per favore solo una domanda quanto sono ancora diffuse le realtà tipo quella che vive lei dei kibbutz su base comunitaria socialistica e quanto sono diffuse le esperie in Israele le esperienze appunto di diciamo di unità tra insomma perché lei attraverso il teatro la pedagogia eccetera cerca di creare una situazione di unità tra i palestinesi io li chiamerei così piuttosto che arabi e gli israeliani e le altre realtà ecco quanto è diffusa questa questa pratica e quanto influenza le politiche del governo di Israele allora per tutti la ringrazio però ci tengo a dire che io li chiamo arabi israeliani perché ci sono gli arabi israeliani e gli arabi palestinesi ok cioè quelli che abitano in Israele sono arabi però sono arabi israeliani questo sì ci sono cittadini quelli di Gerusalemme e Ovest sono cittadini israeliani quelli di Gerusalemme sono cittadini palestinesi capito la differenza comunque per quanto riguarda il kibbutz il nostro kibbutz è ancora un kibbutz comunitario purtroppo ci sono molti kibbutzimi in Israele che sono diventati privatizzati purtroppo in tutte le parti del mondo c'è questo individualismo in cui una persona dice ma se io lavoro e guadagno appunto come direttore perché devo guadagnare come un giardiniere da noi da infatti noi siamo molto molto orgogliosi le dico la verità che riusciamo a mantenere questo tipo di kibbutz perché per continuare a essere un kibbutz comunitario devi rinunciare anche a molte cose è vero che guadagni in tutto dal punto di vista umano sociale e dal sostegno dal punto di vista culturale però diciamo che una persona tutti quanti possiamo permetterci però le stesse cose e quello che non possiamo permetterci non ce lo permettiamo ora solo per darle un esempio per la seconda domanda che mi ha detto ci sono veramente tantissime associazioni ma una delle poche persone che io riesco a ricevere delle delle donazioni vi stupirete è il ministero degli esteri israeliano nel ministero degli esteri israeliano che tra l'altro fino a poco tempo fa cioè è sempre di destra diciamo va bene però sono gli unici che mi aiuta hanno un un dipartimento pensi un dipartimento per tutti i paesi arabi cioè loro mi hanno detto qualunque attività tu fai con egiziani che sono quelli che sono con noi in pace con giordani con palestinesi noi ti aiutiamo in tutto vuoi fare uno spettacolo vuoi comprare nuovi costumi qualunque cosa certo se potessimo anche con il libano e con con la siria sarebbe bellissimo però per dirle che questa è l'idea del governo israeliano è vero è vero che purtroppo noi abbiamo un governo di destra adesso però non l'abbiamo scelto però questa è la realtà essendo un paese democratico questo è quello che abbiamo però l'aiuto lo riceviamo bene io chiuderei qui perché dobbiamo chiudere però vi lascerei con un'altra frase del libro di Angelica e poi chi vorrà avrà modo di parlare ancora con lei dopo l'incontro dove lei scrive forse è tutto più facile di quanto sembri dobbiamo sforzarci non arrenderci e continuare a cercare il sentiero la sfida continua perlomeno la nostra coscienza sarà soddisfatta di noi perché ci stiamo provando perché ci è chiaro che ognuno di noi arriva al mondo per migliorarlo perché ci crediamo ancora e non molleremo finché non troveremo la strada per raggiungere quel lago quelle acque limpide e scintillanti grazie ad Angelica e grazie a tutti voi e a leggendo metropolitano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti